27 richiedenti asilo 28 richiedenti asilo 28 richiedenti asilo 27 richiedenti asilo nei centri di accoglienza straordinaria di Prato gestiti dalla prefettura La nostra città non ha alcun problema e li accoglierà come doveroso ha commentato il sindaco Matteo Biffoni ma è bene che i cittadini sappiano come stanno le cose Si tratta della redistribuzione su parte del territorio nazionale di duemila persone attualmente accolte nei Cass di Trieste 200 arriveranno in Toscana di cui 34 a Firenze e 27 a Prato Gli arrivi di richiedenti asilo in Italia via terra attraverso l'Europa dell'Est continuano ad essere un flusso continuo e con questa redistribuzione il Ministero dell'Interno può dare respiro al sistema di accoglienza triestino. Immediata la reazione del Comune che fa notare come la comunicazione si è arrivata in maniera indiretta e informale. Un messaggio che ci auguriamo venga e senz'altro verrà da molti contesti territoriali, da molti enti locali e anche evidentemente da parte del Comune di Prato è quello di interrompere se possibile questa propaganda sprombattuto sulla pelle delle persone. Abbiamo discusso giustamente per settimane e per molti giorni di 42 disgraziati in mezzo al mare per la Sea Watch e in modo silenzioso invece 2.000 persone vengono distribuite in un attimo all'interno del territorio nazionale. Il sistema dell'accoglienza diffuso attorno al quale i Comuni si sono impegnati da tanto tempo è pronto a recepire queste persone ed è anche un dovere umanitario recepire queste persone ma senz'altro il Ministero non può avere due parti in commedia. Da un lato agitare un pericolo davanti a tutto il mondo e dall'altro invece gestire in modo non ottimale dal punto di vista anche della collaborazione con gli enti locali il passaggio e la permanenza di queste persone. Il Ministro Salvini è venuto ben due volte a Prato in prossimità del voto con tanti slogan e nessun impegno concreto per la nostra città, aggiunge il Sindaco Matteo Biffoni che torna a chiedere al Governo un aumento delle forze dell'ordine, più personale per l'Agenzia delle Entrate, INAIL, IMSS e Ispettorato del Lavoro. Superlativa già al lavoro dopo la sospensione legata alla scoperta di lavoratori a nero. Brezzo della CGL definisce il caso indegno di un paese civile. Chiede l'intervento del Ministro Di Maio a cui sindacati e associazioni artigiane hanno chiesto un incontro sette mesi fa senza però ricevere risposta. La tintoria superlativa di Via Inghirami ha ripreso la produzione dopo la sospensione dell'attività disposta a seguito del blitz interforze di mercoledì notte. In quella circostanza erano stati trovati sei lavoratori clandestini e altri sui quali l'Ispettorato del Lavoro ha avviato le verifiche in ordine alla regolarità dei contratti. L'azienda già in passato aveva conosciuto ispezioni e sanzioni per lavoro nero e impiego di manodopera clandestina. Per il segretario generale della Filtem CGL di Prato, Massimiliano Brezzo, è indegno di un paese civile che un'azienda come la superlativa, più volte recidiva, possa ottenere in un giorno la revoca della sospensione e riprendere tranquillamente a lavorare. Brezzo rinnova la richiesta di incontro al Ministro del Lavoro Di Maio, avanzata da sindacati confederali e associazioni artigiane oramai sette mesi fa, e ribadisce la necessità di dare applicazione alle normative che prevedono la responsabilità solidale dei committenti e il nuovo articolo 603 bis del Codice Penale sullo sfruttamento lavorativo e caporalato. Noi abbiamo chiesto da tempo un confronto con il Governo perché le leggi ci sono e a Prato non si applicano e sono quelle della responsabilità solidale perché quell'azienda lavora per terzi. Quindi chi gli sta mandando le pezze, se fosse rincorso per pagare i contributi che chiaramente non ha pagato la superlativa perché aveva della gente a nero, smetterebbe di mandargli le pezze a rifinire o a stampare o a tingere e questa cosa non viene applicata. E poi c'è l'articolo 603 bis, se è vero che quelli sono gli orari e quelle sono la modalità, qui siamo in un caso chiaramente di sfruttamento e queste sono le leggi che non si applicano, mentre giustamente si applicano quelle che però consentano di legalizzare l'illegale. Ieri una cagnolina è stata portata d'urgenza dal vetrinalio per aver ingerito un'esca avvelenata. L'animale stava passeggiando con la sua giovane proprietaria lungo l'argine del torrente Meldancione in via Terni e via Palarciano ad Oste di Montemurlo, quando ha trovato una polpetta di carne piena di veleno. Per fortuna la ragazza si è subito accorta che qualcosa non andava. L'animale ha espulso il pezzetto di polpetta avvelenata e fortunatamente si salverà. La proprietaria ha denunciato subito alla Polizia Municipale di Montemurlo l'accaduta. Gli agenti sono arrivati tempestivamente sull'argine del Meldancione ed hanno provveduto ad una prima bonifica dell'aria. Rinvenendo, dopo una curata ispezione, ben 10 polpette avvelenate, nascoste con cura sotto l'erba secca. Si raccomanda però la massima attenzione. Portò un telefonino ad un detenuto recluso nel reparto di massima sicurezza. Per questo un'insegnante è stata condannata a due anni e otto mesi per corruzione. È stata condannata a due anni e otto mesi per corruzione Laura Bonafede, l'insegnante di matematica del Dagomari, docente anche presso l'Istituto Penitenziario, che due anni fa fu arrestata per aver consegnato un telefono cellulare a Francesco Raia, un presunto camorrista di 42 anni detenuto alla Dogaia nella sezione di massima sicurezza. Per lo stesso episodio, Raia, che sta scontando un cumulo di pena di 17 anni per vari reati, tra cui il tentato omicidio di un appartenente al clan di Lauro, ha subito oggi una condanna a sei anni di carcere. Entrambi gli imputati sono stati giudicati con rito abbreviato. La sentenza del giudice per le udienze preliminari ha accolto quasi completamente le richieste del pubblico ministero Lorenzo Gestri, che aveva invocato la condanna rispettivamente a tre e sei anni di pena. Sentenza di non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, per un agente di polizia penitenziaria, difeso dall'avvocato Antonino Denaro, che era indagato per omissione di atti d'ufficio. Secondo la tesi dell'accusa, l'introduzione del telefonino nella cella di massima sicurezza è avvenuta nel quadro di un accordo corruttivo che avrebbe visto l'insegnante ricevere 100 euro. I difensori di Raia, avvocati Costanza Malerba e Federico Febbo, avevano provato a far riqualificare le accuse di corruzione in quella di atti contrari a doveri di ufficio per l'insegnante. L'eventuale dazione di denaro di Raia, secondo la sua difesa, non sarebbe avvenuta a fini corruttivi, ma nel quadro di un legame che vedeva il detenuto innamorato della donna e per questo motivo incline a farle regali. La mia assistita si è sempre professata innocente e impugnerà la sentenza, afferma Michele Nigro, avvocato difensore di Laura Bonafede. Per circa un mese il telefonino è stato nella disponibilità di Raia, sottoposto a intercettazione da parte degli inquirenti che hanno inviato gli atti anche alla direzione distrettuale antimafia di Napoli. Il parco centrale si allontana come ipotesi, occorreranno anni ed anni, così la consigliera comunale di Prato del Movimento 5 Stelle, Silvia Lavita, commenta le ultime notizie in merito alla questione della demolizione del vecchio ospedale. Il Tar nei giorni scorsi aveva riammesso la gara la prima accordata di ditte prima in graduatoria e la ASL ha rinunciato a fare altri ricorsi, assegnando a quest'ultima i lavori per l'abbattimento e riavvolgendo in sostanza il nastro ad un anno fa, quando appunto ci fu la prima assegnazione. In merito al sottopasso del soccorso, la Vita preannuncia un'interrogazione in consiglio sullo stato dei lavori. Il parco centrale che si allontana come ipotesi, ci vorranno anni e anni e anni perché comunque ancora non si sa bene a che punto appunto quando partiranno i lavori della demolizione e comunque si sa, il sindaco lo sa benissimo, che quando ci sono grandi appalti da milioni di euro può essere che ci siano dei risardi sui ricorsi e contro ricorsi e cose varie. Quindi era altamente probabile che si arrivasse a questa situazione. Si ritorna alla situazione di pertenza, ovvero al nulla. Sottopasso del soccorso, il Comune sta predisponendo l'altro tratto di complanare ma per quanto riguarda proprio lo scavo del tunnel vero e proprio? Ecco, allora noi come Movimento 5 Stelle ovviamente siamo sempre stati a contraria e continuiamo ad essere contrari, ci siamo attivati nella scorsa legislatura con i nostri parlamentari per bloccare l'opera, per arrivare al monestro terminale e sbloccare l'opera. In questo momento sicuramente faremo al più presto un'interrogazione per sapere a che punto sono e contatteremo i nostri parlamentari per insistere sul blocco dell'opera e fare quanto prima l'opera più veloce, quindi un terrapieno, un largamento, la cosa che è più veloce e che richieda meno fondi possibili. 50 enti del terzo settore uniscono le forze e danno vita a Scegliamo Prato. Ce ne parla Giacomo Cocchi. 50 enti del terzo settore di Prato hanno deciso di unire le forze per dar vita alla prima fondazione di comunità in Toscana. La volontà è quella di creare, come avviene in altre parti d'Italia, un soggetto unico che sia voce e espressione di tutte quelle realtà no profit che operano sul nostro territorio, con l'obiettivo di lavorare con sinergia, promuovendo la cultura della solidarietà e la responsabilità sociale. Tra i tanti soggetti promotori possiamo citare la Fondazione Caritas e l'Associazione Il Casolare, la Misericordia e la Pubblica Assistenza, l'Associazione Giorgio Lapira e la Cooperativa Sara, ma anche la CAP e poi Avis, Arci, Astir, Kepos e tante altre ancora. Il primo passo per arrivare alla nascita della fondazione di comunità è quello di costituire una associazione di associazioni chiamata Scegliamo Prato, che è stata istituita alla presenza di un notaio durante un'assemblea convocata a Palazzo Datini. Sappiamo che alcuni enti che una volta tradizionalmente erano presenti, tipo la provincia, oggi non sono più dei grandi erogatori rispetto ai bisogni del territorio, quindi il terzo settore, piuttosto che stare fermo con le mani in mano, ha deciso di attivarsi con un modello fortemente innovativo, visto che ne esistono solo 30 a livello nazionale, quello della fondazione di comunità, e mettersi in gioco. Mettersi in gioco chiaramente però il tango si balla in due, quindi bisognerà che la comunità stessa sia disponibile a sostenere questa progettualità. Scopo della fondazione vuole essere anche quello di attrarre risorse sotto forma di donazioni e altre liberalità per poi poterle investire in progetti di carattere sociale a favore del territorio. Lancio una provocazione, se ogni famiglia offrisse l'equivalente di un caffè al mese, quindi veramente una cifra relativamente bassa, che agli amici di solito si offre un caffè, no, quindi se offrisse l'equivalente di un caffè al mese, Prato potrebbe contare su oltre un milione di euro ogni anno da destinare al suo benessere, alla qualità della vita, al miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini. I promotori promettono che la gestione delle risorse avverrà in assoluta trasparenza sotto la supervisione di un organo di controllo e con l'organizzazione della giornata del dono, il 4 ottobre, memoria di San Francesco d'Assisi, un momento nel quale è prevista la presentazione pubblica dei vari progetti messi in campo per lo sviluppo sociale della città. La Cooperativa Alice compie 40 anni, ieri sera la festa ad Officina Giovani per celebrare a suon di musica un traguardo fatto di storie ed umanità. Per noi c'era Marco Manzo. Una festa in grande stile per celebrare i 40 anni della Cooperativa Alice, nata nel 1979, che appunto quest'anno, nel 2019, festeggia il proprio quarantesimo compleanno. Una festa fatta di musica, di allegria, con tanti ospiti e tante istituzioni che hanno voluto portare il proprio saluto per festeggiare questo importante complanno di una cooperativa che da 40 anni si occupa di chi ha bisogno in tanti campi. Cosa vuol dire avere 40 anni di storia alle spalle? Allora, vuol dire conoscere profondamente il territorio e aver fatto parte dell'evoluzione di questo territorio, dei servizi di questo territorio che si sono piano piano adattati e sono cambiati a seconda delle esigenze rilevate. e vuol dire anche aver messo da parte un grosso bagaglio di esperienze e di competenze da rimettere comunque al servizio della comunità per essere sempre più efficaci e per chiaramente riuscire a dare servizi sempre più adeguati ai nuovi bisogni. Cosa c'è nel futuro invece della Cooperativa Alice? Allora, nel futuro della Cooperativa Alice penso che ci sia ancora tanti anni di lavoro da fare perché comunque anche se i servizi cambiano e le esigenze cambiano chiaramente c'è sempre bisogno di sociale c'è sempre bisogno di coesione sociale e noi pensiamo che insieme ai servizi possiamo portarla possiamo tenere insieme la comunità possiamo agire come un catalizzatore agisce nelle reazioni chimiche cioè creare dei processi virtuosi che poi cambiano le comunità dove insistono i nostri servizi. Andiamo in Consiglio regionale per parlare del bollo auto respinta alla mozione del Movimento 5 Stelle che ne chiedeva l'abolizione sentiamo perché No all'abolizione del bollo auto in Toscana non passa la proposta di abolizione o introduzione di esenzioni presentata dal Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale la mozione firmata da Gabriele Bianchi è stata respinta nonostante il tentativo in extremis di emendarla raccogliendo le molte sollecitazioni dell'Aula L'atto dei pentastellati bocciato dal Consiglio si muoveva sull'interpretazione data dalla Corte Costituzionale con la sentenza 122 del 2019 un passaggio con cui i giudici costituzionali hanno stabilito che le regioni sulla tassa automobilistica hanno un solo vincolo non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale per il resto possono introdurre tutte le esenzioni che ritengono utili o d'opportune e allora abbiamo anche modificato la nostra mozione dicendo perché non si valuta a rimodulare questa tassa ci hanno bocciato anche questa proposta da parte del PD non c'è nessuna intenzione di voler andare a alleggerire il carico fiscale delle persone più deboli che sono più in difficoltà oggi in Toscana il capogruppo PD Leonardo Marras ha chiesto il ritiro dell'atto sul tema occorre responsabilità sostenere l'abolizione del bollo auto senza pensare a come si colma il vuoto di risorse che ne derivano è come volere tre volte Natale in un anno ha detto provando ad allargare la discussione sul tema della tassa di possesso delle automobili anche la Lega ha presentato un atto di indirizzo al momento all'esame della prima commissione noi lo diciamo con forza siamo stati gli unici che in aula hanno rilanciato forte il tema del regionalismo differenziato perché crediamo che dando più competenze e trattenendo maggiori risorse nel territorio toscano dei toscani perché ogni anno regaliamo 5 miliardi di euro alle altre regioni possiamo veramente fare molto di più e meglio tra cui anche appunto cominciare a prevedere una serie di estensioni fino all'abolizione del bollo si può né contrari né a favore della mozione si sono dichiarati invece il capogruppo di Fratelli d'Italia e Forza Italia entrambi hanno sottolineato l'assenza di proposte fattive per colmare il vuoto di risorse che si verrebbe a creare contrari all'abolizione Monica Pecori del gruppo misto Toscana per tutti e Serena Spinelli di articolo 1 MDP Tommaso Fattori di Sì Toscana a sinistra ha parlato infine chiaramente di rimodulazione uno dice bene certe fasce sociali i macchinoni pagheranno un bollo più alto di quello attuale e altre fasce magari lo pagano più basso quindi a parità di entrate se ci fosse stata questa idea al fondo sarebbe stata ovviamente da affrontare ma finché invece si tratta la questione in forma ripeto così di pancia diciamo che bisogna porre attenzione Regione e categorie economiche lanciano il patto per lo sviluppo della Toscana sentiamo Dario Pagli Sette punti per rilanciare lo sviluppo della Toscana li ha lanciati il presidente Enrico Rossi che ha firmato un'intesa con i soggetti dell'economia e della società toscana associazioni di categorie e sindacati queste le linee di intervento investimenti pubblici e privati a partire dalle infrastrutture per 8 miliardi di euro in 5 anni facendo pressione anche sul governo nazionale staffetta generazionale per portare a due terzi il tasso di sostituzione previsto da quota 100 con i pensionamenti riallineamento di domanda e offerta di lavoro sostegno a Industria 4.0 con 5 milioni del Fondo Sociale Europeo sviluppo dell'economia circolare marchio di localizzazione territoriale della Toscana e credito alle imprese con la prospettiva di attivare 240 milioni di euro di finanziamenti non possiamo perdere questi mesi che restano lasciando come spesso accade negli ultimi mesi di lavoro rallentando l'attività negli ultimi mesi di lavoro e per questo abbiamo concertato fatto un lavoro insieme alle parti sociali tutte per individuare 7 punti di impegno in questo periodo di 8-9 mesi quello che sarà l'intesa per lo sviluppo della Toscana è frutto di un lungo lavoro di concertazione e le aspettative sono molto alte secondo noi l'accordo in sé racconta la Toscana per com'è e per come dovrebbe diventare quindi è una Toscana che vuole puntare sulle sue piccole e medie imprese che non le vive come un problema o come un'opportunità è una Toscana che nell'ultimo scorcio di mandato della legislatura Rossi si dà come obiettivi un rilancio dello sviluppo del sistema economico Rossi ha anche annunciato l'attivazione di una serie di tavoli su nodi strategici dello sviluppo come sanità diseguaglianze sociali e territoriali immigrazione e demografia e una grande mobilitazione sulle infrastrutture un anno di fondazione Ispro in Toscana ascoltiamo il bilancio dell'attività e gli obiettivi a un anno dalla nascita della fondazione Ispro la regione toscana intende promuovere far conoscere ancora di più l'attività della fondazione che ha come obiettivi la raccolta di fondi contro il cancro e il sostegno alle attività dell'Ispro nato nel 2018 dalla fusione tra Istituto Toscano Tumori e Istituto per la Prevenzione Oncologica Ispo l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi ha ricordato i traguardi già raggiunti tra iniziative di divulgazione scientifica in tutta la regione ed eventi come il trofeo Mare Terra Vita dello Yosh Club di Punta Ala che ha permesso di attivare nel 2018 una borsa di studio sui temi di oncologia e sport La fondazione Ispro che ha trovato il suo punto di riferimento nell'Istituto per lo studio e per la prevenzione oncologica che oggi mette insieme le vecchie funzioni dell'Ispo e le funzioni dell'ITT è una fondazione che lavora per dare alla rete oncologica gestita da Ispro strumenti e valori in più Il direttore di Ispro Gianni Amunni ha ricordato che la fondazione nata per sostenere l'Istituto ha enormi potenzialità in una regione animata da una grande volontà di sostenere la sanità pubblica e la ricerca oncologica con degli scopi ben definiti Promuovere la prevenzione promuovere gli stili di vita aiutare i percorsi di cura promuovere la ricerca La fondazione ha la possibilità di raccogliere fondi la partecipazione della gente a questa iniziativa Nel 2019 sono già in fase di programmazione nuove iniziative in aggiunta a quelle già rodate come la corsa podistica Ispro Run che si svolgerà a Firenze entro la fine dell'anno Comune di Carmignano ed Empa insieme per la tutela degli animali e il decoro dell'ambiente urbano apre al cittadino per segnalazione di informazioni uno sportello delle guardie zoofile direttamente dentro il palazzo comunale La tutela del decoro urbano e degli animali passa dalla collaborazione con l'ente nazionale protezione animali stipulata a una convenzione di durata triennale tra il Comune di Carmignano e l'Empa di Firenze per il supporto delle guardie zoofile saranno potenziati gli interventi inerenti alla protezione degli animali con particolare riferimento alle colonie feline e alle aree pubbliche nelle quali è consentito l'accesso ai cani compresi gli sgambatoi di Carmignano come Ana e Seano grazie a questo nuovo accordo col Comune le guardie zoofile saranno a disposizione dei cittadini anche in uno spazio apposito in palazzo comunale Con questa convenzione andiamo ad aprire uno sportello tutti i giovedì in orario d'ufficio con volontari e guardie dell'Empa per fornire informazioni importanti su come gestire il proprio animale ma anche informazioni necessarie per andare a prevenire o a reprimere quelle forme di maltrattamento di violenza sui nostri animali Empa si occuperà di sensibilizzare le persone ad un corretto rapporto tra uomo e animali ma anche sui comportamenti da osservare quando si porta fuori per esempio il proprio cane di quell'idea dell'ente di corsi dedicati nelle scuole e di un patentino per i padroni di animali L'idea del patentino nasce dalla necessità di fare informazione su tutti i proprietari di cani di tutte le razze Tempo fa era uscita una legge sulle razze pericolose eccetera in realtà qualunque razza può essere soggetta a maltrattamento quindi cani da taglia piccolissima a taglia gigante e qualunque razza può essere pericolosa poi è chiaro che il chihuahua farà meno male rispetto a una lana se morde ma la consapevolezza del proprietario nella gestione del proprio cane rende tutta la comunità più tranquilla Oltre allo sportello si ricorda che è possibile contattare le guardie zoofile per informazioni e segnalazioni chiamandolo 055 97 51 111 Entro il 2020 il bellissimo borgo di Artimino sarà riqualificato previsti interventi sulla pavimentazione in pietra serena e anche sull'illuminazione vediamo un piano di riqualificazione per il borgo medievale di Artimino la giunta comunale ha approvato e già inviato alla soprintendenza il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il rifacimento della pavimentazione e il miglioramento dell'illuminazione pubblica in particolare il lastricato che attualmente presenta in più parti segni di degrado sarà sostituito con uno dello stesso materiale ossia pietra serena e di fattura analoga verranno inoltre sostituiti corpi illuminanti esistenti all'interno del borgo con dei nuovi a led e verranno creati nuovi punti luce gli interventi di restauro saranno anche l'occasione per rinnovare i sottoservizi e realizzare un adeguato sistema di scolo delle acque piovane previsto infine il restauro della fontana e del pozzo in pietra noi come amministrazione comunale abbiamo l'obiettivo di rendere il più bella e il più attraente possibile per i nostri turisti quella che è un po' la nostra perla che è il borgo di Artimino ci siamo adoperati da subito con un progetto per tutta la nuova pavimentazione del borgo di Artimino e più alcuni interventi puntuali che vanno a migliorare il contesto oltre come dire a tutta la nuova pubblica illuminazione che non solo renderà più sicuro il borgo di Artimino ma darà anche una maggiore visibilità del borgo all'esterno quindi una maggiore suggestione questo proprio in un'ottica turistica l'obiettivo è quello di partire il prima possibile una volta che il progetto è bagliato la sovrintendenza poter cantierare nei tempi utili quindi fuori dalla stagione turistica il progetto è far partire i lavori puntiamo in tutto il 2020 a terminare i lavori il costo dei lavori ammonta 540 mila euro il comune di Carmignano partecipa ad un bando della regione toscana per l'assegnazione di contributi per interventi di rigenerazione urbana chiedendo un finanziamento pari al 75% del costo totale dell'intervento facciamo adesso una breve pausa ma rimanete con noi tra poco l'agenda ed il meteo ben ritrovati adesso scopriamo insieme gli appuntamenti previsti per domani a Prato ed intorni con la nostra agenda domani alle 17.30 alla Gualchiera di Coiano meraviglie agonizzanti la rinascita della Gualchiera di Coiano inaugurazione della mostra fotografica di Daria B e visita guidata alla Gualchiera alle ore 18 nello spazio d'arte Alberto Moretti a Carmignano inaugurazione della mostra Sguardi dell'artista Chiara Lorenzini l'iniziativa resterà aperta fino al 30 luglio alle 18.30 al giardino dietro le scuole Collodi in via del Purgatorio al giardino ancora non l'ho detto letture teatrali in giardino a cura dell'associazione Riciclidea Onlus nell'ambito del progetto Creazioni Urbane al Museo Archeologico di Artimino a Carmignano a partire dalle 21.15 indagini notturne al museo visita guidata al museo e divertente indagine investigativa al buio con l'ausilio delle sole torce elettriche età consigliata per bimbi e ragazzi tra i 4 e i 10 anni alle 21.30 a Capezzana andrà in scena la festa di Capezzana solenne processione per le vie del paese con la partecipazione della banda musicale di Schignano alle 21.30 al giardino Buonamici Io sono partito spettacolo di Econ Riccardo Goretti e Massimo Bonechi per la rassegna Giardini in scena alle 21.30 al chiostro della strega Figline concerto The Juke Joint Blues Band Live E infine alle 21.45 al Castello dell'Imperatore proiezione del film Rocketman Ci colleghiamo con il Consorzio Lamma per sapere che tempo farà Buonasera Buonasera a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma le condizioni sinottiche attese per domani un frutto e freddo lambirà l'Italia centro-meridionale portando della instabilità anche sulla Toscana ma andiamo a vedere le condizioni nel dettaglio per la giornata di sabato ad una mattinata variabile con locali rovesci sulla costa seguiranno un pomeriggio caratterizzato da marcata instabilità con rovesci e temporali sparsi nelle zone interne mentre sulla costa sono attese delle schiarite i venti si disporranno fino a moderati settentrionali ma rimossi temperature massime in lieve diminuzione su valori molto gradevoli intorno ai 27-30 gradi in pianura per quanto riguarda domenica in mattinata cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti in appennino nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibilità di precipitazione a carattere di rovescio sempre sui settori appennici e quella anche sulle aree montane meridionali mentre ancora deboli o moderati settentrionali mari a trattimossi a sud dell'elba temperature stazionari su valori gradevoli bene con questo concluso auguro a tutti voi una buona serata e con il meteo termina anche il nostro Tg vi ricordo l'appuntamento di domani alle 13.45 con il Tg del giorno a tutti voi una buona serata da Maddalena Ciambellotti e da tutto lo staff di TV Prato arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.